Finito il keynote di apertura del Qualcomm Tech Summit 2017, si parte subito con due anteprime che parlano di PC e in questo caso di un 2 in 1. Stiamo parlando dell'HP Envy X2 ed è il primo prodotto di HP basato sulla piattaforma Snapdragon 835. In questo caso io ho il modello base, quindi il 4GB di memoria RAM con dovrebbero essere C64GB di memoria interna e la caratteristica fondamentale di questo prodotto è che è un Always On PC, ovvero è un dispositivo che in 6.9 mm di spessore vi permette di avere una SIM integrata con connettività gigabit perché lo Snapdragon 835 arriva al gigabit come connettività LTE Advanced. Audio Bang & Olufsen, jack audio da 3,5 mm, dall'altra parte una Type-C ovviamente con la possibilità di collegare dongle o qualsiasi altra cosa vogliate, quindi espandere poi le porte USB e nella parte qua in alto la SD per espandere la memoria. Nella parte posteriore in questo caso non vi è niente se non questa cover che va a sfruttare questo meccanismo, questa cerniera per andare a inclinare perfettamente il prodotto. Prodotto che come vedete è sempre connesso, è sempre acceso ma la caratteristica fondamentale è che lo Snapdragon 835 è fondamentalmente il motore che muove gli smartphone fino ad oggi. In questo caso su un computer permette di avere un'autonomia tendenzialmente record per questa tipologia di prodotti. Durante la presentazione in vari momenti è stato mostrato come grazie allo Snapdragon 835 a 10 nanometri sia possibile arrivare fino a 22 ore di riproduzione video. In pratica la giornata intera di utilizzo lavorativo la si fa e per utilizzo lavorativo non intendo soltanto Windows 10 S che vi permette di installare solo le applicazioni presenti all'interno dello store ma è possibile anche andare a fare un upgrade gratuito fino a fine anno di Windows 10 Pro. Quindi basta cliccare get e voi avrete su piattaforma Snapdragon 835 la versione completa desktop di Windows 10 che vi permette in pratica di andare a installare per esempio anche un programma come Chrome che ho scaricato dal browser Edge e che in questo caso non è installabile perché è un X ma basta fare see how, quindi vedere come e automaticamente vi verrà suggerita l'installazione e l'upgrade a Windows 10 Pro. Ovviamente la versione S non differisce per interfaccia utente, usabilità e piacevolezza d'uso da quella normale, da quella completa con diciamo fatta eccezione per appunto i programmi X fuori dal Windows Store. Però la piattaforma Windows ha tutta la suite office completa, ha tutte le applicazioni diciamo di uso più comune, fondamentalmente nessuno vi vieterà di andare a montare video con questo prodotto però è un dispositivo che cerca di fare della mobilità il suo punto di forza. Quindi probabilmente in pochi andranno a montare video con uno Snapdragon 835 ma di sicuro in molti, me compreso, vorranno un prodotto Windows che dalle 8 la mattina alle 22 la sera riesce ad essere connesso e con batteria carica. Maggiori informazioni e dettagli nell'articolo in descrizione, mi raccomando continuate a seguirmi perché qui dal Qualcomm Tech Summit siamo solo all'inizio. Ciao! Ciao!